Siamo tornati con questo video Oggi vi andrò a mostrare il mio club da oltre 50 milioni In realtà non so quanto sia, penso sia molto di più di 50 milioni Però ho messo 50 milioni così per arrotondare I giocatori più interessanti del mio club vi farò vedere Quindi lasciate un bel mi piace Prima di cominciare vi dico subito dove ho preso queste magliette Il sito che mi ha inviato queste magliette sta in descrizione È un sito che vende magliette da caccio dei mondiali, tute, vende un sacco di roba Quindi ve lo lascio in descrizione, c'è il coupon JustEase, la spedizione è gratuita Sono magliette fatte veramente bene, me le sono fatte mandare prima di sponsorizzarle Appunto per vedere come fossero fatte e sono fatte veramente bene Costano poco, ovviamente non sono originali, sono repliche Ma sono fatte, vi ripeto, molto bene Quindi se vi può interessare sta in descrizione, c'è anche il coupon del 15% Che già ho detto che è JustEase E niente, questo è quanto Ragazzi, prima di iniziare un altro avviso Stasera farò una live molto ma molto interessante Dove, non volevo dire ma ve lo dico Aprirò ben 4 pacchetti top 100 di Food Champions Ovviamente con 11 if all'interno per ognuno Quindi non vi dico altro Siateci, attivate la campanella, iscrivetevi al canale Non perdetevi la live di stasera perché sarà tanta roba Tra l'altro dovrebbe uscire anche Pelé Prime Le ultime icone Prime tra cui anche Pelé, teoricamente Bando alle ciance direi di andare subito all'interno della nostra rosa E vedere un po' come si presenta Vi ripeto, ho messo solamente giocatori più significativi C'ho oltre 4000 giocatori nel club Non potevo metterli tutti Quindi ho messo solamente quelli che più valgono insomma Allora, partiamo dalla squadra titolare La squadra titolare che ormai già conoscete Prima di farvi vedere la squadra titolare che è sempre quella alla fine Vi faccio vedere la lista perché c'è purtroppo un Ripperoni Ho provato Messi Ho provato Messi quest'ultima Weekend League L'ho venduto ragazzi Non riesco a utilizzarlo Non riesco a utilizzarlo Una cosa assurda L'ho provato in tutte le posizioni possibili e immaginabili Ma non riesco a far rendere Messi purtroppo Quindi penso che il problema sia mio Cioè nel senso il mio stile di gioco Perché vedo moltissimi che dicono che è una bestia E io non riesco a usarlo Quindi sarà sicuramente un problema di gioco, di stile di gioco Per il resto la squadra è sempre quella ragazzi Vi faccio vedere R9 che ho fatto 25 partite tutte in Weekend League 26 gol, 15 assist Senza contare tutti i rage quit instantani Probabilmente della gente appena segnava Che quittava al terzo o quarto minuto È un mostro È veramente fortissimo ragazzi Non ho avuto assolutamente alcun tipo di problema con lui Quindi Insomma ve lo consiglio Se ci avete i crediti Ecco fatelo Non penso ve lo debba dire io Cristiano Ronaldo anche lui sto avendo dei problemi Nel senso non dei problemi di rendimento della carta Per carità è fortissimo Ma dei problemi di dove farlo giocare Perché usando il 4-2-3-1 O faccio giocare R9 a TT O faccio giocare Cristiano Ronaldo a TT E secondo me Cristiano Ronaldo Andrebbe fatto giocare a TT Ma avendo R9 capite bene che non posso Quindi lo sto facendo giocare C o C centrale Dietro praticamente R9 Poi alla fine fa come se fosse una sorta di seconda punta E sì Rende per carità Ma non segna ovviamente tutti quei gol che segnava da attaccante Però ci sta R9 ragazzi R9 non può non giocare attaccante TT Harry ragazzi sarà quello che lascerà il posto a Pelé Perché io Pelé lo farò assolutamente Già ve l'avevo detto Ho fatto pure il sondaggio Voi avevate detto che avreste preferito vedere Pelé Prime completato anziché Gullit Quindi ragazzi farò sicuramente Pelé E andrà al posto di TT Harry Quindi come partenza sarà C-C Lo cambierò di ruolo a C-C E poi diventerà C-C centrale Quindi sposterò Ronaldo a destra E Ronaldinho a sinistra O Ronaldinho a destra e Ronaldo a sinistra Cambia poco alla fine Con Pelé C-C centrale dietro R9 E sarà veramente tanta roba Il resto Mataus e Piera ragazzi Non penso ci sia bisogno di Di presentarli Ci ho fatto 400 partite quasi Con tutte e due Quindi assolutamente Per quanto riguarda il terzino destro Terzino destro Adesso sto utilizzando Aurier Perché voglio un po' capire Chi è meglio tra lui e Valencia Non prendo Valencia If Me lo dite in ogni video Ma non lo prendo Perché? Perché costa troppo Dato che era il primo team of the week Costa troppo Valencia If Quindi non mi va di spendere mezzo milione Cioè per riesco Magari tenermelo lì Senza usarlo Piuttosto che spenderlo per Valencia Sinceramente Vi dico Vi dico la verità Proprio è una cosa mia Poi magari sbaglio Sicuramente sbaglierò Però così De che ragazzi Sempre così un po' altalenante Cioè para Poi non para Poi para Poi non para Non so se prendere l'upgrade 91 Non so quanta differenza ci possa essere Se avete l'upgrade 91 Fatemelo sapere nei commenti E un po' Ditemi se è molto più forte del 90 o meno E andrò a decidere un po' se prenderlo A livello difensivo Penso di stare a posto Potrei far Maldini Ma non so Cioè dovrei levare una di queste due icone E sinceramente mi sembrerebbe Mi sembrerebbe un po' uno spreco A meno che non dovrei Cioè dovrei darle nella sfida di Maldini E sarebbe ancora più uno spreco secondo me Quindi rimane così Roberto Carlos ragazzi I sabbisti Sono animo Quindi rimane qui E' troppo forte E va bene così Per quanto riguarda i giocatori in panchina E le riserve Riserve per modo di dire Perché sono tutti giocatori devastanti Allora andiamo in ordine Abbiamo Riccardo Cacà Che ho completato E che ho utilizzato come super sostituto Per tre partite Non è un sostituto Cacà Non va usato da sostituto Quindi se avete Cacà Non usate da sostituto Usate da titolare E poi lo sostituite Cosa che io Dovrei levare E ri sinceramente Non so quanto Ne valga la pena Lo usano un po' da sostituto Ma secondo me I sostituti Devono essere più veloci Agili Insomma Devono saltare l'uomo Devono saltare la difesa stanca Della squadra Quello serve Avere il sostituto Cacà sinceramente E' veloce Per carità 85 è tantissimo Per un C.O.C Però Non ha quell'agilità Quella prontezza Non so come spiegarvelo Che può avere magari Un Momo Salah ragazzi Momo Salah L'ho usato come super sostituto E' il super sostituto Più forte che abbia mai avuto Ci ho fatto anche qualche partita In live Appunto Sempre come sostituto Quindi avete potuto Tastare anche voi Quanto sia forte Salah ragazzi E' veramente 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 Un mostro Quindi Non so Non so sinceramente Che altro raggiungere E' troppo forte Vorrei metterlo titolare Ma ho paura che sia come Lo zano Cioè titolare fa cagare E sostituto E' il giocatore più forte Della storia Quindi per il momento Lo tengo sostituto Anche perché non saprei chi levare Quindi Teniamo Salah Super sostituto Del Piero Regà Del Piero Il veterano del mio club 707 partite per lui Mané Adesso sta lasciando un po' Il posto appunto A Salah Come sostituto Timo Verner Che purtroppo Cioè purtroppo Ho trovato Ma purtroppo Non ho avuto modo Di provarlo E ragazzi Lui ve lo consiglio assolutamente Perché secondo me E' un attaccante Con i controcavoli E costa poco Relativamente poco Cioè costa 150.000 Se non erro Più o meno Quindi insomma Veramente poca roba Per un giocatore Che è comunque Delle stats Incredibili 96 di finalizzazione Ragazzi Cioè vi prendete Un giocatore Che ha la finalizzazione Praticamente di Ronaldo Il fenomeno Vi dico sta cosa Ovviamente non li sto paragonando Però è un signor giocatore Provatelo Magari con Royce Foot Burday Fate un attacco a due Magari Royce C.O.C. Fa doppia intesa Ragazzi è tanta roba Timo Verner Provatelo assolutamente Poi abbiamo William Che sta qui Un po' a scaldare la panchina Abbiamo Eriksen Che ho trovato Nei pacchetti IF Di tutti i team of the week Eriksen Ragazzi è forte Non c'è nulla da dire Non l'ho usato Ma lo userò per qualche sfida Di qualche icona Dove servirà un IF Alto di overall Non c'è problema C'ho Mbappé Che lo sto tenendo qui Da tempi in memory Da tempi in memory Quando lo trovai Dai pacchetti One to watch garantiti Sperando che riceva Una versione IF Ancora non l'ha ricevuta Purtroppo Perché ce l'ho io Se non ce l'avessi avuto Ne avrebbe ricevute altre 8 Però va bene Così E quindi sto aspettando Che riceva una carta IF Per venderlo Ci abbiamo Rahim Sterling Stessa cosa Lui ovviamente Le mie speranze Sono un po' più Sono un po' più alte Perché diciamo Che questa è l'unica carta Da C.O.C. che ha Sterling Quindi nel caso Riceva una carta IF Bang Faccio i soldi C'è no Tipo altri due In lista di trasferimenti Tanta roba Poi ci abbiamo Yumin Son Che vabbè raga Yumin Son Che vedevo sta pure A spiegare quanto è forte Yumin Son è fortissimo Ci abbiamo Bobby Firmino Del quale ho preso pure La maglietta dal sito Che vi ho detto Che sta in descrizione Ho preso la maglietta Del Bobby Firmino Raga perché è un mostro Pure nella realtà E lui secondo me La riceve Una carta in forma Cioè lui la deve riceve Perché diventerebbe Veramente devastante Ma già lo è Lui ve lo consiglio Come seconda punta Barra C.O.C. Sinceramente Magari mettendo Qualche ATT Un po' più veloce 4 stelle 4 stelle Ragazzi Lui è un ottimo C.O.C. Date meretta Goretzka pure lui Ragazzi Un signor giocatore Sto aspettando Che riceva un'altra carta IF Sto aspettando Aspetta e spera Mi direte voi Sì giustamente E questa è quindi La mia squadra di dolare Poi vi faccio vedere Un po' il resto Dei giocatori Che ho nel club Che non è che sia La creme della creme Però insomma Qualcosa ce l'ho C'ho qualche Red in form Scandalo C'ho Russiorn C'ho molti giocatori Dei pacchetti 81 o più di No scusate Dei pacchetti sì 81 o più in forma Di qualsiasi team of the week Guardate quante scandali C'ho Questi quali Darò tutti negli IF Garantiti Quando usciranno C'ho Ramsey Sterling Pure lui Sarà utile Da dare nel player of the month Magari esce un player of the month Del Manchester City Mi chiede un giocatore IF Del Manchester City Do Sterling Oppure do Otamendi Insomma S'ho messo abbastanza bene In prospettiva player of the month C'ho Ragnarangolano E poi c'ho questo Ronaldo qui ragazzi Purtroppo sta qua A fare la muffa In qualsiasi altro club Di qualsiasi altra persona Nel mondo Penso O quasi sarebbe titolare A me sta nel club Perché c'ho quello 96 Ci farò probabilmente Qualche sfida Dove devo andarla a scartare Se non riesco a fare una cosa O magari Mi inventerò qualcosa Ragazzi Ma è un giocatore Che vale un milione e mezzo Un milione e sei Quanto cavolo costa E sta così Nel club a fare la muffa Però vabbè L'abbiamo trovato Quindi siamo molto Ma molto contenti Allora Per il resto Non penso di avere Nulla di Nulla di eccezionale Sì c'ho i team of the group stage Mi sto conservando Perché adesso usciranno I team of the group stage La seconda tornata Quelle del Fasi eliminazione diretta Penso verso metà aprile Dovrebbero uscire Se non erro E poi secondo me Verso fine aprile Già potremmo partire Con i Tots ragazzi Perché poi il 14 giugno Iniziano i mondiali Quindi verso fine aprile Potrebbero già partire i Tots E tra qualche giorno Vedrete il primo video Relati con i Tots Quindi rimanete assolutamente sintonizzati Vi ripeto iscrivetevi al canale Se ancora lo avete fatto E via Qui c'ho Berratti C'ho Icardi Che pure loro No Berratti l'ho comprato Icardi l'ho trovato E li userò per fare Qualche icona Qualche sfida Che richiede un if Alto di overall Questo è quanto ragazzi Questi sono i giocatori più forti Poi vi faccio vedere Che sto vendendo Piano piano ragazzi Le forme fisiche Perché vuoi dire Delle forme fisiche Perché le forme fisiche Costano 800 credi In questo momento Non è ancora iniziata La weekend league Quindi penso che 850 le vendo durante la weekend league Che sono tipo 940 di forme fisiche Vendendola a 800 credi Ognuna Non so quanto sia Ma so tipo 700k Presumo Quindi levandoci le tasse Ragazzi ho un sacco di crediti Che io voglio incassare Proprio prima Dell'inizio dei Tots Perché poi L'impressione che con i Tots Con tutti i pacchetti Che verranno aperti Ho l'impressione Che potrebbero diminuire di prezzo Quindi io incasso Prima di andare Prima dei Tots Molto prima Dell'inizio dei Tots Poi durante i Tots Spacchettando anch'io Me le rifaccio Senza alcun tipo di problema E intanto uso tipo Queste qua singole Ci metto un po' di più A inserirle A metterle Però non è un problema Oppure ne vendo tipo 850 E le altre Insomma ragazzi Ci stanno tante possibilità Questo è quanto ragazzi Questo era il mio club La lista di sferimenti Ve l'ho fatta vedere Con i giocatori che ho Sì perché ho qualche giocatore Molto interessante anche qui Tipo gli Sterling Tipo qualche altro Patto Glory Un William Insomma C'è un bel po' di roba Questo è il club ragazzi Sono pronto a fare Il mio caro Pelé Perché lo voglio fare Lo voglio usare da titolare Quindi spero che stasera In live ci siate Vi ripeto Il sito per le magliette È in descrizione Passateci perché è alto livello Noi ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio Come sempre per la visione Ciao